Ciao, che fai? Sto studiando i trend dei costumi più hot di quest'estate. Ma perché scusa? Così me li compro tutti e sarò la più trendy della spiaggia. Ma sei sicura che ti stiano bene? Se sono trendy mi staranno bene sicuramente alla prova costume, no? O no? No, non è così semplice. Butteresti via i tuoi soldi. Ci sono delle regole, dei trucchi. Vediamo insieme come scegliere i costumi da bagno giusti e superare la prova costume a pieni voti. Ciao amici, come vi ho anticipato in questo video, oggi parliamo di prova costume. Ma sei proprio sicura? Secondo me ci bocciano Simona. Chissà, ma forse no. Voglio sfatare insieme a voi tre falsi miti sulla prova costume e svelarvi quattro trucchetti per scegliere il costume giusto e valorizzare le proprie forme naturali, ognuno le sue. Per prima cosa vi ricordo che avete già a disposizione tutta una serie di trucchetti e strategie per iniziare subito a tornare in forma ed essere pronti alla prova costume. Li trovate tutti belli ordinati nella playlist che vi lascio in descrizione per dimagrire la pancia, dimagrire i glutei, dimagrire le cosce. Così potete fare prevenzione per la prova costume. Eh sì, vedi, è proprio come una malattia. Non è una malattia, ma crea tanto stress e genera perfino una sindrome, la bikini blues, che colpisce una donna su quattro. Quindi possiamo prevenire e giocare d'anticipo, come facciamo per tante altre cose. E questo è il mio primo trucchetto. Bisogna pensare a mangiare bene tutto l'anno, almeno dalla fine dell'inverno in poi, per stare bene, per avere energia, per perdere peso. Così non siete costretti a dimagrire velocemente e avrete un bel corpo anche in estate, non solo in estate. Ovviamente senza esagerare, perché come ho già spiegato in questo video, ognuno ha le sue forme. E bellezza significa valorizzarle, non stravolgerle, che comunque è impossibile. Secondo trucco, facciamoci furbi, non facciamoci rovinare l'estate dalla moda, se non è adatta alle nostre forme. Se siete d'accordo con me, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Brava! Bisogna scegliere il costume in base alla propria costituzione. I punti critici sono di solito pancia, i fianchi, le maniglie dell'amore, il sedere. Ma proprio qui sfatiamo il primo falso mito. Solo il bikini è sexy. Cosa vi dicevo? E anche noi per essere sexy dobbiamo farci aiutare dal taglio giusto del costume. Benvenuti ad Abbina il Bikini. Grazie. Con tutta la varietà che c'è in giro non si capisce più niente. Fra un po' bisognerà avere una laurea per scegliere un costume. Non serve una laurea. Ecco il mio terzo trucco. Per non sfigurare bisogna mettere in risalto i punti forti ed evitare di strizzare il resto del corpo in trappole esplosive. Le amiche dal fisico curvi hanno più scelta di quanto si possa immaginare, per fortuna. E questo è il secondo falso mito sfatato di oggi. Sono tornati di moda i costumi da pin up in stile anni 50 si trovano molto facilmente. Vanno di moda anche i costumi con culotte a vita alta che aiutano molto in caso di fianchi larghi, girovita inesistente e pancia sporgente. Se la pancia è il problema optate per un costume intero. Mentre se avete un bel ventre piatto con addominali scolpiti e il problema è più giù, glutei e cosce, scegliete un due pezzi ma con culotte. Ed ecco il quarto trucco. Le fantasie, i poids grossi e le righe creano un effetto allargante, quindi scegliete in base al vostro fisico. Bene per le magre ma non per le curvi che invece possono scegliere le tinte unite. I bikini minimal e i modelli con slip alla brasiliana andrebbero scelti dalle amiche più magre e da chi si è impegnato molto per avere un fisico bello tonico e anche da chi non soffrirebbe mai di bikini blues anche se non è perfetta. Quasi quasi ci faccio un pensierino o no? Prima di svelarvi il terzo falso mito di oggi fatemelo dire iscrivetevi al canale per seguire tutti i miei video. È facile basta un click così e attivate la campanella delle notifiche. Il terzo falso mito di oggi riguarda i modelli elaborati con spalline basse, disegni intricati, trasparenze, nastri, trecipizi vari eccetera eccetera. Questi modelli sono da indossare e mostrare non da indossare al mare. Ma Simona fai le rime adesso? No credimi vanno bene come costume di ricambio dopo per quando andiamo via dalla spiaggia oppure per un aperitivo o un evento. Chi li ha provati sa che non sono per niente pratici e rischiano di diventare un ostacolo alla sana socializzazione da spiaggia. Infine una considerazione. Se il nostro corpo non è perfetto, se abbiamo la pancia gonfia, le gambe grosse, la cellulite e qualcuno ci guarda, una domanda cosa succede? Che dice guarda quella che pancia gonfia che ha. Sì esatto ma a te cosa cambia? Che ha detto che ho la pancia gonfia? Sì ma nella tua vita interiore ed esteriore cosa cambia dopo che ha detto così? In realtà nella mia vita non è cambiato nulla no? E allora come dico sempre è bello avere cura di sé ma diamo la giusta enfasi a questi aspetti? Non troppo. Va bene? Va bene mi piaccio anche così come sono. Giusto? Allora condividete questo video sui vostri social con le amiche, con gli amici così in tanti sapranno come scegliere il giusto costume, superare il dramma da prova costume e piacersi così come sono. Io vi aspetto presto con tanti altri video per volervi bene naturalmente. Ciao!